Senza tregua, torna in campo l'eccellenza, nel girone B non mancano gli interessi. Occhi puntati su Castiglion Fiorentino, dove la formazione allenata da Roberto Fani è chiamata a riscattare la pesante sconfitta patita domenica sul neutro di Certaldo con la mazzola Valdarbia. Ospite di Viola e il Signa, squadra di tutto rispetto che in classifica è al sesto posto a solo una lunghezza dalla matricola della Valdichiana. L'atmosfera elettrica di Certaldo e l'assenza di qualche pedina di rilevo hanno contribuito ad alimentare un quadro traballante per la Castiglionese, che contro i fiorentini dovrebbe recuperare di sicuro Sexeni, assente per squalifica. Per gli altri, solo mercoledì dovrebbero essere sciolte le riserve. Da parte sua il Foiano torna all'ombra dei Pini, dove ospita una Fortis Juventus che ha accusato una pesante defiance con il Ponta Sieve in casa. Anche gli Amaranto hanno conosciuto l'amaro sapore della sconfitta a Prato con lo Zenit. Gli Amaranto sono invischiati nella zona calda e necessitano di tre punti. Da parte sua la Baldaccio Bruni Anghiari è attesa da una difficilissima trasferta a Colle Valdelza, squadra attualmente al secondo posto. I ragazzi di Borgo domenica sono tornati al successo dopo tre mesi di astinenza, un periodo troppo lungo che ha lasciato il segno in casa anghiarese.